Ciao a tutti da Di Giano Manipasta Allora, ormai è tipica anche quando esco sul video Ciao a tutti, buongiorno a tutti da Di Giano Manipasta comunque, sono sempre io Allora, non potevano mancare che cosa? Come ricetta tipica salentina, le pulpette fritte Le pulpette fritte è una tradizione da noi, la domenica specialmente non possono mancare sia fritte a tavola oppure le mettiamo al centro tavola dopo con l'insalata oppure le pulpette fritte si possono mettere anche nel sugo ma questo ve lo farò vedere dopo andiamo a vedere gli ingredienti questo è un chilo di macinato misto bovino e maiale 400 grammi di pane raffermo e messo a mollo e poi strizzato 100 grammi di formaggio grattugiato pecorino prezzemolo tritato quanto basta un cucchiaino di patè d'aglio magari vi metto il link oppure uno spicchio d'aglio privato tritato tre uova sale e pepe quanto basta e vino bianco quanto basta allora prima cosa vado a prendere il nostro macinato io naturalmente qua impasterò tutto con le mani nel nostro nel nostro macinato vado a mettere tutto il pane metto le uova metto il formaggio come vedete è molto molto semplice vado a mettere l'aglio il prezzemolo il prezzemolo tritato come vedete io lo faccio grossolanamente mi piace vederlo poi se volete lo fate grossolanamente più tritato più sottile anche voi allora adesso io vado ad impastare con una mano così poi pian piano vado ad aggiungere un po' di sale e un po' di pepe e poi anche il vino bianco quindi andiamo ad impastare e man mano che impasto vado a mettere un po' di sale perché poi andrò ad impastare va sotto un po' di pepe un po' di vino bianco il vino bianco come se lo prende come può essere un poco come può essere un po' di più quindi andiamo ad impastare allora ecco qua il nostro impasto come vedete ben amalgamato tutto quanto l'ho assaggiato di sale e di pepe guardate come vedete neanche mezzo bicchiere non è mezzo bicchiere di vino bianco quello che si prende dovete mettere mi raccomando ora io ho preparato una ciotola perché ogni tanto mi andrò a bagnare le mani e andrò più comoda sapete come diciamo noi le polpette quando le le facciamo a pallina e le incoculiamo le incoculiamo noi diciamo coculare in dialetto nostro ora ho preparato un vassoio vado a coculare le nostre polpette la forma la decidete voi mi raccomando vedete potete farle più piccole potete farle più grande e andiamo ad adagiarle tutte sul vassoio una accanto all'altra una volta finite andremo ad accendere l'olio e a freggerle e vedrete che bontà divina eccole qua le nostre polpette volevo dirvi c'è chi mette le polpette fritte nel sugo c'è chi le mette a crudo però se le mette a crudo naturalmente non le devi mettere all'ultimo le si mettono un po' prima perché devono cuocere anche dentro a me sicuramente non piacciono a me piacciono fritte perché si deve sentire proprio inutile la frittura si dicono che fa male però la frittura è la frittura è più buona allora andiamo a friggere perché ho messo già l'olio ed è bollente il nostro olio è pronto guardate io vado a immergere tutte le polpette in modo da riempire tutto il nostro la nostra pentola una volta che si sono soffrite da un lato le rigiriamo dall'altro ma questo ora ve lo farò vedere vedete si stanno dorando e io piano piano con una porchetta le vado a girare vedete ecco una volta dorate le andremo a togliere tutte e le metteremo su carta assorbente è naturale che molti di voi nelle parti d'Italia o all'estero le polpette le fanno però io vi dico la mia perché qui da noi è proprio tipica pugliese la polpetta proprio le nostre polpette sono pronte guardate guardate che spettacolo facciamo facciamo colare l'olio in eccesso e le andiamo a mettere tutte su un vassoio con carta assorbente e poi vado a fare il resto delle nostre polpette naturalmente a fine cottura del sugo del sugo che ho fatto andrò a mettere le polpette che faremo anche col sugo soddisfazione unica guardate qua le polpette fritte le pulpette fritte e le pulpette con l'usugo perché come vi ho detto a fine cottura del sugo ho messo le polpette le polpette bastano 10 massimo 15 minuti il tempo di amalgamare bene nel sugo e sono ottime allora io vado ad assaggiare una polpetta naturalmente la polpetta brucia perché l'ho tolta ora dal sugo sono squisita sono stra squisita e adesso vado ad assaggiare l'altra polpetta quella fritta fritta normale senza sugo buonissima chi vuole assaggiare con me? Davide? sono veramente straordinaria buon manio allora io con questo vi lascio vi ricordo mi raccomando come tutti i giorni se volete acquistare il libro potete acquistarli direttamente alla casa editrice qualche giorno mi fate felice e se me lo dite pure così so che sto crescendo grazie a tutti e se qualcuno lo vuole anche per dedica con dedica lo posso ancora mandare io grazie a tutti di cuore da Tiziana mani in pasta ciao 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 ciao